Al grande fratello VIP 2 è arrivato il momento di aprirsi per Daniele Bossari. Il conduttore si racconta a cuore aperto e confessa lati di sé che nessuno conosce, ma non solo. L'ex VJ racconta un momento particolarmente buio, che ha attraversato e che non ha ancora superato del tutto. Mi guardavo allo specchio e avevo il ribrezzo di me stesso, non rispondevo a nessuno, non volevo uscire di casa. Queste le prime parole confidandosi con Aida Jespica, GF VIP, Bossari il suo inferno. Prima del reality lavoravo ma non mi riguardavo mai. Prosegue Daniele Bossari sono andato dallo psicologo, ma il percorso è ancora lungo. La mente ti blocca completamente. L'esperienza nella casa del grande fratello VIP gli è servita proprio per superare questi ostacoli. Ho accettato di partecipare alla reality per superare le mie paure, angosce e tormenti, tutte le mie fragilità. E in effetti così è stato. Daniele oggi si sente diverso, pronto ad affrontare un nuovo percorso. Prima ero incupito, come se avessi un velo. Ero proprio chiuso, leggevo soltanto. Il mio sogno era vivere in una torre senza nessuno perché stavo male dentro. Avevo l'inferno. Grande fratello VIP 2 dopo il reality nozze e secondo figlio una volta fuori dalla casa del GF VIP 2. Per Daniele Bossari arriveranno piacevoli novità e cambiamenti. Ecco perché, quasi con certezza il conduttore di mistero probabilmente chiederà a Filippa Lagerbach, sua compagna da oltre 17 anni, di diventare sua moglie. Il conduttore infatti, durante la sua esperienza dentro la casa più spiata d'Italia, ha espresso il desiderio di avere un secondo figlio. Dopo questo annuncio, la sua compagna si è dimostrata in perfetta sintonia con lui.